Ciao signore, io volevo fare un saluto a tutti gli amici del Casino San Benzano TV, volevo salutare tutti gli amici della televisione del Casino e ricordare che io il giorno dopo due botte a settimana viene a pulire il Casino, quindi se tante volte vi cade per terra qualche monetina, la raccolgo io e me la tieno io perché la roba trovata si tiene. Arrivederci signore, ci vediamo giovedì, ciao! Grazie a tutti!